Abbiamo fortemente voluto questo corso perché in realtà sul territorio ci sono delle bellissime aziende, tantissime eccellenze, ma mancano degli esperti, dei tecnici che possano poi mettere mano ai nostri dispositivi, ai nostri macchinari e quindi molto spesso dobbiamo andare ad attingere risorse dal di fuori del nostro territorio e questo ci piace, siamo stati costretti a farlo ma abbiamo anche volontà di far crescere le nostre generazioni. Si inizia, si cresce, si sta a fianco a chi ne sa di più per esperienza di anni e quant'altro e si impara. 2.300 ore complessive delle quali la metà di approfondimento teorico su competenze trasversali e tecniche dalla meccanica alla tecnologia dei materiali passando per la sicurezza soltanto a citarne alcuni, l'altro 50% in tandem con le aziende leader del settore. L'ITS Cuccovillo avvia con un seminario la prova su strada e le docenze specialistiche del corso per meccatronico per la gestione e manutenzione dei dispositivi biomedicali, veri e propri supertecnici, insomma vuol dire investire sul capitale umano, specie nella fase post-emergenza, spiegano dall'Istituto due anni di percorso, quelli che porteranno all'approdo del diploma nel 2022 25 ragazzi delle province di Bari e Brindisi, una decina le imprese pugliesi con attività in tutto il mondo, pronte ad ospitarli. Obiettivo? Formazione sul campo e ridurre la forbice che divide domanda e offerta di lavoro. Offriamo cioè in pratica un servizio alle aziende e un servizio ai giovani, perché le aziende hanno bisogno chiaramente come si dimostra di competenze sempre nuove, di grandi specializzazioni, di grandi persone che abbiano delle competenze tecniche molto specifiche. I ragazzi hanno bisogno di trovare il posto di lavoro, quindi noi ci poniamo proprio come volano di crescita, quello vogliamo essere, cioè cercare di essere punto di congiunzione di quelli che sono i bisogni da una parte, rispondere a tali bisogni, offrire naturalmente le competenze necessarie. Per noi l'opportunità di consolidare questo legame che abbiamo con il territorio e con la regione Puglia, investire sui talenti, sulla formazione significa costruire persone in grado di avere appunto quelle competenze trasversali, liquide, fatte a misura per le aziende. Per noi è fondamentale far parte di un progetto di questo tipo, perché l'inserimento di nuove risorse, giovani, dinamiche all'interno di un'azienda, sono un valore aggiunto anche per l'azienda stessa, non solo per il candidato che si affaccia al mondo del lavoro. Grazie a tutti.